Benvenuto da Mr. Clumb, come posso aiutarla? Allora, vorrei un Nig Mac Bacon con tanto Nig, poi penso che prenderò dei Children McNugget, poi vediamo una Human Salad condita e un Happy Meat. Ah, e una Coca Light, ovvio. Vuole anche delle salse? Sangue, sudore, sperma? Sì, una bustina di sperma, grazie. Subito! Ciao a tutti i pagliacci e benvenuti ad una nuova puntata di Cinema degli Eccessi. Prima di cominciare volevo dire una cosa a tutti quelli che continuano a chiedermi e a chiederci una recensione sulla Vomit Gore Trilogy. Non preoccupatevi ragazzi, prima o poi la faremo, però dovete avere ancora un po' di pazienza perché dobbiamo prepararla bene. Tornando alla puntata di oggi, in questa 41esima puntata di Cinema degli Eccessi, parleremo di uno degli splatter per eccellenza. Come avrete capito sto parlando di Bad Taste, un film neozelandese del 1987 di Peter Jackson. In effetti è un po' strano che abbia aspettato così tanto tempo per analizzare gli splatter di Peter Jackson, visto che sono un must per gli appassionati del genere. Il film in origine doveva essere un cortometraggio, ma poi il regista riuscì a trovare dei finanziamenti e quindi ne fecero un lungometraggio. Cosa ci racconta Bad Taste? Allora, una società aliena arriva in una piccola città della Nuova Zelanda e dal momento del loro arrivo tutti gli abitanti sembrano essere spariti e la città sembra essere deserta. Un po' come in essi vivono hanno le sembianze di esseri umani, ma il loro obiettivo è quello di ucciderci e usare la nostra carne per un fast food intergalattico, il fast food di Mr. Crumb. Direi fantastico, non trovate? Sembra quasi una puntata di Futurama. Stiamo parlando di uno splatter demenziale, per cui la violenza che c'è, per quanto eccessivo, o comunque truculenta possa essere, è trattata in maniera molto leggera e divertente. Innanzitutto abbiamo un sacco di teste staccate, spappolate e cervella sparse per tutto il film. Vomito verde rigurgitato e poi bevuto, corpi trapassati, manichini smembrati, eccetera eccetera. Anche se personalmente, avendo visto Splatters prima che è stato girato dopo, mi aspettavo qualcosina di più riguardo alla violenza. Quello sì, che è davvero assurdo. La tecnica del film, pur essendo molto amatoriale, è molto efficace. Non so se per volontà propria o per scarsità di mezzi c'è un uso smodato della camera a mano, anche per movimenti di camera che dovrebbero essere affidati a della strumentazione più specifica. Voluto o no, questo effetto scuote molto lo spettatore, che si sente un po' confuso da tutto questo movimento e da tutto questo tremolio. Questo uso della camera a mano è alternato nelle scene esterne, si vede benissimo da una gru che si alza dal personaggio per mostrarci l'ambiente. Molte riprese vanno avvicinate, molti dettagli, oltre che avere la funzione di essere raccapriccianti, tentano anche di citare un certo tipo di cinema. E sto parlando soprattutto dell'horror degli anni 70 nelle sue più svariate forme, da quelli di Cronenberg al Dr. Phibbs, per poi arrivare a delle riprese che sembrano estrapolate direttamente dai polizieschi come l'ispettore Callaghan. E ricalca anche un po' lo stile della troma, se vogliamo. Diciamo pure che il cinema di Peter Jackson, dei primi dieci anni della sua carriera, vive di cinema stesso, soprattutto quello di genere. Si vede proprio l'anima del nerd degli anni 80 che si guarda 10 VHS al giorno. La ricerca cromatica non è curata molto, anche se Peter Jackson dimostra di saper usare bene le luci e le ombre. Un uso più netto dei colori, secondo me, avrebbe donato qualcosa in più al film. Anche se sono conscio del fatto che il budget irrisorio non lo abbia permesso. Gli effetti speciali a me personalmente sono piaciuti, anche se sono a volte di una trashaggine assurda. Però sono molto divertenti da vedere e non così ributtanti come si può pensare. Epica la scena in cui il personaggio interpretato dallo stesso Jackson mangia la calotta cranica, anzi metà testa, di un tizio col cucchiaio. Ce l'avrete presente tutti quell'immagine. Tanto bellissimi quanto pessimi e inguardabili sono gli alieni nella loro vera forma, con le chiappe di fuori. Mix di mille citazioni e citati a loro volta in mille altri film. Nonostante il film sia molto cazzone, c'è una piccola volontà di criticare l'industria dei fast food e del loro franchising spietato, anche se secondo me il regista non è che sia stato molto lontano da questi posti. Altri sensi lati o una filosofia di base purtroppo non le ho percepite e secondo me non ci sono proprio. Un po' si sente questa mancanza se pensiamo che anche la troma nella sua tresciagine e nella sua eccessiva pessimezza riesce a metterli dentro. Però sappiamo tutti che Jackson è molto più proiettato verso l'intrattenimento che per scopi più alti. Però devo dire che come intrattenitore, secondo me, sa fare il suo mestiere. Vediamo insieme la scheda del film per Bad Taste. Budella, 3 su 5. Avrebbe dovuto usare molto di più, secondo me. Violenza psicologica, 0 su 5. È palesemente una commedia. Marciume, 2 su 5. Perché gli splatter di base un po' del marcio ce l'hanno. Divertimento, 4 su 5. Una commedia d'azione che intrattiene come si deve. Trash, 4 su 5. Per la sua comicità demenziale e per le idee assurde, tipo quella di far esplodere una pecora con un bazooka. Per quanto riguarda la classifica generale di cinema degli eccessi, Bad Taste di Peter Jackson si piazza al 33esimo posto, tra macete e hostel. Decisamente troppo scansonato e stupido per scioccare. Beh, che dire su Bad Taste, ragazzi. È sicuramente un film divertentissimo che accontenterà gli appassionati del genere. E anche al resto degli spettatori, senza troppe pretese, farà sicuramente passare una serata piacevole e divertente. Da guardare anche se mal sopportate la violenza visiva, visto che è inscenata in modo molto ridicolo, per niente scioccante. Secondo me è un po' un film simbolo, un cut degli anni Ottanta, ed anche la colonna sonora nella dimostrazione, ad esempio. Per quanto riguarda la violenza, però, come già detto, siamo lontani da quello che secondo me è un capolavoro del genere, ovvero il terzo film di Peter Jackson, Splatters, gli schizzacervelli. Che molto probabilmente tra qualche mese vedremo su questa stessa rubrica. Per quanto riguarda il regista, penso non abbia bisogno di grosse introduzioni, grosse presentazioni, anche se magari molti non sanno che prima del Signore degli Anelli Jackson faceva gli splatter. A me come regista intrattenitore piace molto, anche se molti cinefili incalliti lo odiano proprio per le sue produzioni dal 2001 in poi. Li ho visti quasi tutti i film del regista e mi sento di consigliarvi, a parte i più famosi ovviamente, Splatters e Sospesi nel Tempo. Un altro film che insieme a King Kong dimostra un amore sconfinato di Peter Jackson per il cinema stesso. Poi vabbè, regà, che devo dirvi, a me il Signore degli Anelli è piaciuto un botto, è uno di quei film che se vedi da ragazzino non puoi non amare. Ed è anche sicuramente grazie a questa trilogia che mi sono appassionato del cinema. Mi mancano giusto 3-4 film, ma cercherò di recuperarli al più presto. Volete un parere velocissimo sull'Hobbit? Secondo me il peggio della filmografia di Peter Jackson, ma a me continua a divertire. Sarà che non riesco a giudicarlo molto come un'opera artistica, cinematografica, cinematografica, ma come puro intrattenimento e secondo me quel lavoro lo fa. Pareri sul regista e sui film e su quello che volete ovviamente sono ben accetti, commentate pure. Pagliacci miei, anche la recensione di oggi finisce qui. Mi scuso per la brevità del video, ma a parte che è periodo di esami e quindi è periodo di merda. E poi questo film non richiedeva molta analisi, lo capirete anche voi, non c'è molto da dire. Anche se secondo me andava fatto per completezza della rubrica, che si chiama Cinema degli Eccessi. Settimana prossima giuro che non sarete delusi perché affronteremo, per quanto riguarda il Cinema degli Eccessi Classico, uno dei cut più estremi di tutta la storia del cinema. Vi assicuro che non rimarrete delusi. Se volete degli indizi non vi resta altro che andare a mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook, che spesso carichiamo qualche giorno prima qualche indicazione sul film che verrà analizzato. Se volete supportare il nostro lavoro mi piacciando, condividendo e commentando, noi siamo sempre contenti. I consigli per i film e per migliorare il nostro lavoro sono sempre ben accetti. Vi saluto Pagliacci, bella regà, che il cinema sia con voi. E hai avuto proprio una bella idea a portarci qui. Tokyo è una città fantastica. Vero? Ma che cazzo? E ti pareva? Ok, c'è solo una cosa da fare. Ma non vorrete... Andre, tu pensa a distrarlo! Foi un'altra cosa da fare. Grazie a tutti.